Sono prima! Occhio, che l'acqua bolle! Ma dai, ma mancano pochi giri! Allora butto la pasta! Sei brava di essere in pista, vero? È Forza Motorsports 5, solo con la nuova Xbox One. La grafica e le luci sono perfette. Una vera esperienza di gioco cinematografica. La resa dinamica dei danni rende visibile ogni urto e ogni più piccolo graffio. Le piste sono piene di segni di gomme e di rottami. Abilità, errori, vittorie, tutto all'insegna del massimo realismo. Anche perché il nuovo controller ti fa percepire fisicamente le sensazioni di guida. Dalla biesta ai cordoli. Con Xbox Live sei protagonista anche in rete, nella comunità di gioco più ampia al mondo. E non solo! Grazie a DriveAvatar, Xbox Live analizza tu stile di guida e crea un avatar che guida proprio come te. Così gli amici possono sfidarti anche quando non sei in rete. Forza Motorsports 5, disponibile dal 22 novembre solo su Xbox One. Adno. Sì.